L'ex discarica di Villa Carmine, 300.000 metri cubi di rifiuti a Monte Silvano, continua a rappresentare un pericolo per l'ambiente e per i cittadini. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle, Barbara Sella e Giovanni Bucci, sono tornati stamani a denunciare il grave stato in cui versa l'ex impianto di compostaggio. Nel 2016, come è noto, sono stati stanziati 10 milioni di euro di fondi Masterplan, ma ad oggi, è stato detto, non sono state eseguite nemmeno le opere di barrieramento idraulico necessarie per evitare lo sversamento delle acque refle nel fiume Saline. Sappiamo di interlocuzioni che la Regione ha avuto con il Ministero dell'Ambiente per intercettare le risorse necessarie. Ad oggi siamo in netto ritardo perché la messa in sicurezza doveva essere fatta almeno da tre anni, ma anche il progetto di bonifica doveva essere presentato entro sei mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio. Analisi di rischio che è stata approvata a marzo 2021, quindi sono passati due anni e mezzo. Io approfondirò questo aspetto dell'interlocuzione che la Regione ha avuto con il Ministero e presenterò una nuova interpellanza regionale e coinvolgerò anche la nostra parlamentare proprio per approfondire sul fronte ministeriale. A rendere ancora più grave la situazione hanno fatto notare due esponenti pentastellati l'abbandono di rifiuti altamente inquinanti come elettrodomestici in disuso e pneumatici. I due esponenti del Movimento 5 Stelle hanno ricordato che risale al marzo 2021 l'approvazione dell'analisi di rischio ambientale che entro i sei mesi successivi avrebbe dovuto portare al progetto operativo di bonifica. Voglio ricordare che questa è una discarica abbandonata da 20 anni, una montagna di 300.000 metri cubi di rifiuti, siti proprio sulle sponde del fiume Saline, una vera e propria bomba ecologica possiamo dire. All'interno di questa montagna defluiscono liquami che si sversano verso il fiume Saline e quindi è un problema che i cittadini stanno vivendo ormai da decenni. Non è più sostenibile una situazione del genere. Agli annunci di questo governo regionale è seguito il nulla di fatto di conseguenza. Quindi per questo noi oggi abbiamo coinvolto anche la nostra consigliera del Movimento 5 Stelle, la consigliera regionale Barbara Stella, che tanto ha fatto in questi anni in termini di interpellanza, regione, di accesso agli atti, sopra luoghi, denunciando il ritardo che si sta accumulando anno per anno. Grazie.